Oh raga, incredibile, ho perso una coincidenza, sono veramente sconvolto, perché vabbè chi segue il canale sa che io viaggio in continuazione per lavoro, credo che negli ultimi due anni avrò preso 5 treni che non sono arrivati in ritardo, quindi bene, bene, il governo dei patrioti, fatto benissimo, molto bene, bravo, bravo Salvini, grande, quello prima pure, ormai da anni che stiamo peggiorando, cioè stiamo peggiorando invece di migliorare anche io, e comunque niente, per questo io manderei un po' di armi in Ucraina, comunque qua va tutto benissimo, grandissime, grandissime, vabbè, ormai quando hai una coincidenza di 20 minuti, ma anche al nord, perché solitamente i casini di solito erano da Roma in giù più o meno, adesso no, ovunque, cioè ovunque, ovunque, è impossibile, io sono a Milano qua, no, è il solito, se uno dice che cazzo sei a Cosenza, no, 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 sono a Milano, niente, vabbè, bellissimo, tutto bello, armi in Ucraina, raga, armi in Ucraina, bisogna armare l'Ucraina, fino all'ultimo Ucraina, bravo, madre cristiana, poi su Gaza, vabbè, poi ci fai sapere cosa ne pensi, eh, madre cristiana, bella, ha buttato anche il PD per l'armi in Ucraina, ragazzi, grandi, viva, che vadano tutti a fare in culo.